Di come si chiamano? Di massi. Quindi fino a dove stanno i massi? Sicuramente stanno sotto. Sì, 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 sì. Sì, si è vero, non so se ne fai mai Non so se ne fai mai mai Non so se ne fai mai mai Non so se ne fai mai 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 Ma adesso se non c'è l'uomo Che schifo